Benvenuta e benvenuto sul canale. Io sono Marco Caponera, laureato in scienze motorie e personal trainer. Oggi ti presento un lavoro completamente nuovo, che non avrai né visto né incontrato da nessuna altra parte, né in palestra, né all'interno di studi scientifici, né in altre situazioni. Perché si tratta di un esercizio di caduta, letteralmente di caduta a terra, che viene dall'allenamento nel Krav Maga, nella disciplina di difesa personale di matrice israeliana che io insegno da molti anni. Ho adattato questo esercizio all'alta intensità, all'intensive interval training, prima proponendolo ai miei allievi di Krav Maga, poiché si trattava di un esercizio tecnico di caduta per cadere a terra senza farsi male e risalire in piedi senza l'uso delle mani. Quindi molto comodo nel caso in cui appunto si cada a terra, si venga sbilanciati e quindi intanto evitare di sbattere la testa, poi risalire senza farsi male alle caviglie, senza farsi male ai polsi, ai gomiti, eccetera. Quindi è partita come una tecnica, uno sviluppo di una tecnica marziale, diciamo così, ma poi mi sono accorto che funziona molto molto bene anche nel mondo del fitness senza attrezzi, perché è un esercizio, ad esempio, che può essere abbinato ai barpees, invece è un esercizio molto famoso che si usa tanto nel high intensive interval training, e insieme formano un total body veramente interessante per l'allenamento. Quindi nel video ti spiego la tecnica di questo esercizio, che dovrai essere appresa prima di iniziare ad eseguirlo ad alta intensità, perché deve essere acquisita e quindi deve essere un po' metabolizzata, ma dopo la quale potrai cimentarti nelle varie modalità di allenamento. Le ho separate in due diverse modalità. Ho sviluppato un protocollo 60-60, ciò vuol dire che faremo 60 secondi ad alta intensità con la tecnica di caduta e altri 60 secondi di recupero attivo camminando in cerchio oppure salendo e scendendo da uno step, e questa è una modalità, diciamo così, generica, per una varietà di soggetti che siano già precedentemente allenati e senza problematiche. Ho sviluppato parallelamente un protocollo specifico per la donna ginoide con problematiche di frusso e quindi di ritorno venoso e linfatico su un protocollo 30-60, dove nei 30 secondi di alta intensità andremo ad eseguire le cadute e faremo i 60 secondi sempre di camminata per eseguire il recupero attivo oppure salendo e scendendo dallo step. Quello che cambia anche un pochino è la tecnica di risalita dalla caduta che si avvarrà anche dell'ausilio delle mani per scaricare ulteriormente il lavoro sulle gambe. Quindi è una doppia modalità che puoi utilizzare. O all'inizio partire col 30-60 se non riesci a completare con una buona intensità il 60-60, oppure è destinato il 30-60 ai soggetti che hanno problematiche di ritorno venoso e linfatico. Oppure puoi partire col 60-60 e lavorare con l'alta intensità, così come il protocollo nasce e si sviluppa e porta ovviamente i maggiori risultati in chiave di tono, eccetera. Questo circuito lavora molto bene sulle componenti centrali di variabilità cardiaca, V2 max, lavora molto bene anche sulla salute dei mitocondri, sullo smaltimento del lattato e in chiave di tonificazione lavora benissimo sulle gambe, sui glutei e sull'addome, chiaramente. È un ottimo esercizio anche di coordinazione perché andremo a lavorare sfruttando una diversità di stimolo destra-sinistra e nella modalità anche con l'ausilio delle mani sarà ancora più evidente questo intervento sui due emisferi cerebrali, quindi sulla conduzione nervosa dello stimolo. Ora la faccio a breve, non voglio farla lunga, voglio soltanto dare una indicazione, un consiglio. Non abbandonare il video perché nelle considerazioni finali in chiusura ti lascerò un paio di consigli molto interessanti, validati scientificamente peraltro, quindi non parliamo di chiacchiere, che ti aiuteranno se vuoi, se il tuo obiettivo con questa tipologia d'allenamento è quello di dimagrire, quindi il tuo obiettivo principale è il dimagrimento, ti lascio due consigli importanti per rendere molto molto efficace questo circuito con due piccoli accessori, diciamo così, non oggetti ma approcci e sono molto molto interessanti. Io li utilizzo da anni con i miei clienti e con le mie clienti e funzionano benissimo, quindi ascolta, guarda, studia, approfondisci tutto il video e ci vediamo alla fine e ti do anche quest'ultimo piccolo regalo di due aggiunte, variazioni, cose. Te ne parlo alla fine del video. Andiamo con la sigla. Bene, come vi dicevo nell'introduzione, questo è un esercizio che ho trasportato dal Krav Maga, dalla difesa personale israeliana, è una tecnica di caduta che non utilizza le mani per arrivare a terra, è sicura e serve appunto per tornare in piedi con le mani a disposizione. Io l'ho trasferita al fitness, dopo averla utilizzata anche in chiave di alta intensità nei miei corsi di Krav Maga, perché ho notato che effettivamente è molto utile per allenare le gambe, glutei, addome e anche la coordinazione, quindi mettere in contatto l'emispero destro, sinistro, eccetera. E ha un ottimo esercizio complementare dei barpees per chi avesse necessità di realizzare ad esempio un circuito HIIT con una sorta di full body, quindi di total body, per riuscire a stimolare tutte le catene muscolari contemporaneamente in un unico circuito. Noi in questo caso vedremo un circuito eseguito solo ed esclusivamente con le cadute, ma in un prossimo futuro realizzerò anche un video nel quale andremo a modulare i barpees e alternarli alle cadute, perché viene fuori un bel allenamento. Come vedete, in questo tipo di esercizio noi andiamo ad alternare una fase ad alta intensità, come sempre prevede l'allenamento HIIT, High Intensity Interval Training, e una fase di recupero attivo, nella quale andiamo a camminare per recuperare dall'attività ad alta intensità e per eliminare un pochino di metaboliti, di lattato che si sarà nel frattempo accumulato nelle gambe quando andremo ad eseguire questo circuito. Il circuito si compone nella sua modalità base di una fase ad alta intensità di 60 secondi e una fase di recupero di altri 60. Diciamo 50 secondi in movimento e 10 secondi in attesa, vedete, respirando per abbassare la frequenza respiratoria e prepararsi a ripartire. Sulla tecnica ci torniamo più avanti perché la vedremo nel dettaglio. Adesso mi voglio concentrare e ribadire quelli che sono i vantaggi che portano a un allenamento di questo tipo. Al di là della brevità dell'allenamento, perché l'allenamento ad alta intensità ha fra le sue peculiarità, la più importante è quella appunto di riuscire a svolgere, a sviluppare un allenamento completo in minor tempo rispetto ad un allenamento a media intensità o a bassa intensità. E i benefici sono molteplici. Ve ne elenco alcuni. Allora, miglioramento della variabilità cardiaca, miglioramento del VO2 max, velocità di recupero fra le serie in caso di allenamenti di forza, perché si migliora, si rende più efficiente la fase di recupero e quindi si recupera meglio quando andremo a fare eventualmente allenamenti di forza, ipertrofia, tonificazione. Smaltimento del lattato, quindi velocizza le operazioni che il corpo esegue per smaltire il lattato accumulato durante le serie allenanti, sia con cariche ad alta intensità, sia nel circuito stesso. e la salute dei mitocondri è molto, molto efficace anche per lavorare sulla salute mitocondriale. Poi, a livello proprio di muscolatura coinvolta, andremo a tonificare le gambe, i glutei, l'addome, andremo a migliorare la coordinazione, quindi la coerenza nervosa tra il misferro destro e sinistro e ovviamente, che poi forse è il motivo per cui la maggior parte di voi che state guardando questo video è il tema a cui siete interessati, il dimagrimento. È un ottimo esercizio per il dimagrimento, per migliorare la sensibilità insulinica, e quindi combattere la resistenza insulinica, e migliorare appunto l'afflusso di glicogeno muscolare, lo stoccaggio di glicogeno muscolare, che è il carburante effettivo dei nostri muscoli, e quindi per esprimere e lavorare al meglio con energia, e quindi avere più energie durante la giornata. Ecco, tutti questi parametri vengono migliorati da questa tipologia di allenamento. Io consiglio di eseguire due, tre allenamenti a settimana, con almeno cinque serie ripetute per partire, e poi passare via via fino al numero di dieci. Ovviamente, quello che bisognerà fare, cercare di fare, è eseguire il maggior numero possibile di cadute e risalite in piedi all'interno della singola sessione, del singolo circuito. Quindi nei 60 secondi devo cercare di raggiungere il massimo numero. E mi devo attestare su quel numero per tutto il circuito IT. Quindi tutte le serie devono essere più o meno coerenti con questo. Quando vedo che comincio a perdere intensità, quindi il numero di ripetizioni che riesco a eseguire all'interno della singola serie, a quel punto mi fermo e l'IT è terminato, perché abbassando l'intensità i benefici dell'IT vanno a calare in maniera molto, molto frequente. Quindi, diciamo, prima va eseguito un riscaldamento, si va a realizzare magari dei movimenti di mobilità articolare per attivare tutte le varie catene muscolari, riscaldare, portare sangue ai muscoli, alle articolazioni soprattutto e poi si va ad iniziare. Ovviamente trovate una routine già illustrata qui sul canale e ve la linko in alto nello schermo. Adesso entriamo nello specifico della tecnica di esecuzione. Questa è una tecnica che va imparata perché non è istintiva la tecnica sia di caduta che di risalita dal pavimento. Quindi andremo a portare i glutei verso i polpacci, andremo a distenderci con il mento molto basso sullo sterno in modo tale da evitare colpi alla testa, andremo ad appoggiare il ginocchio e non il piede per risalire, allineeremo i due piedi quindi per fare in modo che spingano nella stessa direzione e poi torniamo in piedi. Nell'esercizio dinamico una volta in piedi si fa un saltello all'indietro per tornare nella posizione di partenza. Questo è si butta fuori l'aria quando si sale si prende aria quando si scende quindi in questa fase prendo aria prendo aria prendo aria prendo aria e qui la butto fuori e vado a completare il lavoro di risalita con i piedi allineati e le dita che spingono verso il pavimento. Ora vediamo una variante di questo esercizio con l'ausilio delle mani quindi andremo a coinvolgere anche le mani. Questo è utile per lavorare intanto in modalità femminile per cui chiaramente le donne potrebbero avere soprattutto donne di costituzione ginoide con problematiche di ritorno venoso e linfatico potrebbero avere problemi nell'eseguire 60 secondi consecutivi di questo esercizio quindi il mio consiglio è quello di passare alla modalità 30-60 sempre con recupero attivo quindi si fanno 30 secondi ad alta intensità e 60 a bassa intensità nei 30 secondi ad alta intensità per fornire un ulteriore supporto alle gambe per evitare che siano queste a fare tutto il lavoro quindi caricandosi anche di metaboliti lattato e altri sottoprodotti dell'attivazione muscolare andremo a aiutarci con le mani questo scarica un po' il lavoro delle gambe e soprattutto ci consente di andare a lavorare in maniera ancora più completa la mano d'appoggio è quella controlaterale quindi se risalgo dall'affondo con la gamba destra mi appoggio con la sinistra e viceversa ok adesso lo andremo a vedere in maniera più approfondita quindi il consiglio è di andare a lavorare su un 30-60 sempre partendo da 5 ripetizioni del circuito per arrivare intorno alle 10 in questo caso si potrebbe anche aumentare ma il mio consiglio se si hanno problematiche di ritorno venoso e linfatico è non esagerare le prime volte soprattutto si deve cercare di non sentire un eccessivo bruciore pesantezza e affaticamento nelle gambe perché appunto questo è indice di un lavoro eccessivo in chiave muscolare e questo ovviamente va a confliggere con quello che è l'obiettivo di riportare il sangue dalle estremità verso il centro del corpo che questo esercizio è efficacissimo nel farlo però a determinate condizioni ovviamente se le problematiche sono molto molto importanti non consiglio di iniziare una ristrutturazione e un allenamento di pump output venoso il linfatico da questa tipologia di allenamento questo potrebbe andare bene in una seconda fase quando già le pompe sono state riattivate la muscolatura riesce a svolgere efficacemente il proprio lavoro ecco questo è un ottimo step successivo per andare a enfatizzare quel tipo di lavoro come vedete gamba sinistra in appoggio mano destra che spinge in avanti si allinea il piede si risale il piede ovviamente al rallentatore manca la fase di salto per tornare indietro nella posizione di partenza ma l'abbiamo già vista nei video precedenti quindi vi invito a dare un'occhiata a rivedere un pochino la tecnica completa eccolo qui qui adesso c'è l'accelerazione e quindi il saltello finale bene e veniamo ai consigli finali allora quello che io vi consiglio di fare è gestire questa tipologia di allenamento come allenamento esclusivo per cui allenarvi soltanto in chiave hit con questo circunto però come già spiegato in altri video precedenti può essere anche abbinato efficacemente ad altri tecniche di allenamento posticipandolo cioè inserendolo alla fine perché in questo modo andremo a sfruttare il fatto che gli altri esercizi che abbiamo eseguito hanno scaricato un pochino il glicogeno muscolare presente nel nostro corpo e quindi riusciremo a alzare o quantomeno ci proveremo ad alzare la quota di grassi che verranno utilizzati per eseguire questa tipologia di allenamento la frequenza allenante di questo tipo di protocollo prevede almeno due o tre allenamenti settimanali perché sempre di un allenamento a base aerobica si tratta e quindi chiaramente la frequenza è molto importante quindi questo è la base può essere eseguito anche 4-5 giorni a settimana io quello che vi consiglio però almeno all'inizio è di andare in progressione quindi partire con un paio di allenamenti settimanali e poi a salire soprattutto basandovi su quella che è la risposta dei DOMS del giorno dopo riguardo a quello che è stato l'esito di questo allenamento se sentite che le gambe sono ancora molto molto impastate avete fastidi dolori appunto legati ai DOMS vi consiglio di attendere almeno all'inizio finché questi non siano passati dopodiché vi riallenate e date un nuovo stimolo via via che vi allenerete questi fastidi andranno a calare e quindi potrete aumentare la frequenza di allenamento in due o tre mesi di questo allenamento eseguito almeno due o tre volte a settimana si riescono a vedere risultati di dimagrimento miglioramento del VO2 max variabilità cardiaca anche tono delle gambe dei glutei e dell'addome significativi per cui ovviamente non c'è una scadenza a questa tipologia di allenamento che potrete protrarre fin quando volete insomma fin quando vi divertite un aspetto molto interessante di questa tipologia di allenamento ed è il motivo per cui io l'ho inventato sviluppato e inserito all'interno dei protocolli che io uso nel mio studio è che può essere efficacemente abbinato ai barpees per realizzare una sorta di total body ad alta intensità per cui potete modulare alternativamente una serie di cadute con una serie di barpees potete inserire una serie di barpees ogni due serie di cadute potete lavorare in modo da costruirvi il vostro ideale circuito ad alta intensità total body in maniera completamente autonoma e individualizzabile perché ovviamente i barpees sono un altro esercizio abbastanza impegnativo anzi forse più impegnativo di questo ed è il motivo per cui io spesso inizio da questo circuito e poi lo faccio evolvere inserendo anche i barpees perché anche se i barpees possono essere eseguiti senza effettuare il piegamento sulle braccia quando si scende chiaramente è comunque molto molto intenso perché il corpo lavora in maniera molto impegnativa quindi volendo si può modulare se volete possiamo discuterne nei commenti mi fate le domande che vi tenete opportune e possiamo vedere di evolvere questo circuito in un circuito total body comprensivo di barpees non è escluso che in futuro realizzi un video proprio per cercare di abbinare queste due tecniche poiché spiegare i barpees è abbastanza ovvio perché comunque lo trovate ovunque su youtube tecniche dove esercizi comunque video che vi spieghino come si eseguono i barpees invece sulle cadute no e quindi chiaramente ho dovuto realizzare questo video poi questa tipologia di allenamento può essere diversificata per genere perché le donne specialmente ginoidi che hanno problematiche di ritorno venoso e linfatico ovviamente non dovrebbero lavorare ad alta intensità ma in questo caso lo si può fare perché sia dal punto di vista biomeccanico sia dal punto di vista funzionale possiamo adattare questa tipologia di allenamento anche a soggetti che abbiano problematiche di questo tipo quindi è assolutamente versatile e può essere personalizzato io consiglio di iniziare con il classico 60-60 quindi 60 secondi di cadute e 60 secondi di recupero attivo camminando oppure salendo e scendendo da uno step come visto in altri video precedenti se volete vi rimando vi metto qui qui sopra un video in cui potete vedere l'utilizzo dello step come recupero attivo è leggermente più intenso della camminata quindi valutatelo anche in funzione dello sviluppo del vostro allenamento per quanto riguarda la frequenza l'intensità ovviamente questo è una tipologia di circuito che va eseguito alla massima velocità possibile ovviamente una volta che avrete acquisito la tecnica di allenamento la tecnica di allenamento si acquisisce pian piano ci si allena soltanto a capire come eseguire correttamente il movimento vi potete basare sulla descrizione che io ho fatto nel video lo potete vedere a rallentatore anche se già è rallentato per mostrarlo in maniera più chiara in maniera più chiara possibile comunque vi mettete lì cercate di capire come si esegue in maniera corretta e io quello che mi invito a fare è seguirlo pedissequamente cioè non modificate nulla perché tutto quello che riguarda questo esercizio è stato studiato attentamente sia in chiave marziale e quindi studiato per essere eseguito in caso di bisogno improvviso in cui si riceve una spinta che ci fa cadere a terra e quindi è pensato anche in situazioni non controllate come quelle delle nostre sessioni di allenamento per cui è pensato proprio per essere sicuro dopodiché una volta che voi avrete appreso la corretta tecnica potete iniziare a cimentarvi nella routine HIIT e quindi una buona base di partenza secondo me sono 5 serie di 60-60 quindi abbinate una fase ad alta intensità una fase di recupero la ripetete 5 volte e già quella sono 10 minuti ed è una buona base chiaramente di partenza pian piano man mano che vi allenate potete lavorare sia sulla velocità di esecuzione quindi per aumentare il numero di ripetizioni che riuscite ad eseguire all'interno dei 60 secondi e sia poi nell'aumentare il volume di lavoro aumentando il numero di giri passando a 6 7 8 secondo me un range efficace di lavoro per questa tipologia di allenamento va dai 5 ai 10 giri alle 10 serie poiché oltre i 20 minuti come spiegato anche in altri video si perde un po' quella che è la prerogativa principale dell'IT e cioè quello di essere un allenamento breve intenso e quindi anche molto efficace nella brevità anche perché con l'andare delle serie si perde intensità si perde velocità si perdono ripetizioni e quindi perde si perde anche un po' il presupposto di base di questa tipologia di allenamento e il risultato non è più garantito quindi quando voi vi accorgete che in una serie non riuscite più a tenere il numero di ripetizioni che in questo caso è facile contare per quanto riguarda l'esercizio vi fermate una volta successiva se volete migliorare aumentare il volume potete provare ad aggiungere una serie se volete passate da 5 a 6 poi quando riuscite ad eseguirne 6 tutte ad alta intensità provate la settima magari non vi verranno tutte le ripetizioni necessarie benissimo vi fermate quando riuscirete a completarlo potete arrivare via via nel tempo alle 10 serie che ripeto si tratta dell'impiego massimo di questa tipologia di allenamento tenete conto che se lo eseguite al termine di un allenamento con i pesi ad esempio sicuramente vi risulterà molto più impegnativo perché avrete già esaurito parte del cricogeno muscolare anche dal punto di vista nervoso le vostre energie cominceranno un po' a calare e quindi mettete in conto che non riuscirete a realizzare tante serie o comunque con tanta intensità e ripetizione ed esercizio potete scrivere quante ripetizioni fate alla fine di ciascuna serie in modo tale che avete sempre molto presente quella che è il livello di intensità che state mantenendo quello è un ottimo sistema scrivere quando si finisce la serie ad alta intensità i primi 60 secondi scrivo quante ne ho fatte la serie successiva cercherò di farne lo stesso numero o anche di più se pian piano pian piano riesco ad acquisire una tecnica sempre più sicura sempre più veloce più rapida quindi prima si lavora sul numero di ripetizioni e poi si lavora sul numero di serie che si vanno ad eseguire è inutile fare 10 serie nelle quali faccio nemmeno 10 cadute all'interno dei 60 secondi perché il livello di intensità è talmente basso che c'è un volume sproporzionato all'intensità nel like intensive interval training la priorità va sempre data all'intensità quindi al numero di ripetizioni alla velocità con cui le eseguite deve essere impegnativo il cuore deve pompare e così anche i polmoni e veniamo ai due consigli che vi avevo promesso all'interno della descrizione dell'esercizio allora il primo consiglio che io vi do è quello di cercare di eseguire queste routine questi allenamenti HIIT al mattino e possibilmente a stomaco vuoto allora c'è una diatriba in corso esistono delle discussioni interminabili nell'ambiente del fitness è tutto interminabile perché poi ognuno pensa di avere la verità in tasca ciascuno dice allenarsi a stomaco vuoto è miracoloso si perdono chili di grasso e poi c'è dall'altra parte quelli che dicono no ma la fisiologia dice il contrario in realtà il guadagno è modesto eccetera eccetera allora un fatto è certo nel momento in cui noi ci alleniamo a stomaco vuoto la nostra glicemia quindi lo zucchero circolante nel sangue è più basso quindi sarà più probabile che andremo una volta esaurito questo una volta esaurito il glicogeno muscolare che è il nostro zucchero stoccato nei muscoli andremo a utilizzare una quota di grassi questo se il nostro metabolismo ce lo consente ma qui entriamo in discorsi ancora più complessi e ancora meno prevedibili per cui rimaniamo alla fisiologia di base sicuramente a stomaco vuoto un allenamento ad alta intensità fa utilizzare una maggiore quota di grassi tanti pochi non lo so e al limite ci interessa anche relativamente perché se il nostro obiettivo è dimagrire anche 5 grammi di grasso a sessione di allenamento tolti in più è tutto di guadagnato specialmente se dobbiamo perdere quote importanti di grasso specialmente viscerale e imat che impattano pesantemente sulla nostra salute quindi meglio 5 grammi in meno che 5 grammi in più detto questo questo è il primo consiglio al mattino stomaco vuoto al mattino un allenamento di questo tipo ci attiva per tutta la giornata quindi non pensiate che allenarvi al mattino vi toglierà energie e vi renderà spossati per il resto della giornata vi posso garantire io comincio ad allenare al mattino molto presto e i benefici che questo 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 allenare al mattino presto porta sono insostituibili specialmente perché certi soggetti devono proprio allenarsi al mattino quindi hanno proprio uno stimolo metabolico ormonale circadiano che rende necessario farlo ma anche se questo nel vostro caso non c'è sicuramente ne avrete un beneficio dal punto di vista proprio della lucidità e della vostra capacità di concentrazione di impegnarvi nella giornata lavorativa il secondo consiglio che vi do è quello di fare una una cosa che sembra un po' strana ma che io adesso vi spiego cioè mettere un panetto di ghiaccio ne esistono anche gel già pronti proprio per questa tipologia di utilizzo al livello delle clavicole quindi prendere un panetto di gel posizionarlo all'altezza della clavicola tenerlo due tre minuti perché in questa zona del nostro corpo quella appunto legata tra le clavicole e lo sterno è raccolto il grasso bruno il grasso che il corpo utilizza per termoregolare quindi per adattare la nostra temperatura a quella esterna questo è un segnalatore ed è posto in questa zona proprio perché se noi ci esponiamo al freddo questa zona sicuramente viene esposta non è un caso che sia qui quindi noi possiamo utilizzare questa tecnica per fare in modo che a livello poi dell'allenamento che andremo a eseguire subito dopo andremo a utilizzare una quota di grasso bruno perché ci interessa questo perché il corpo una volta utilizzato questo grasso bruno a scopo energetico termoregolatorio eccetera dovrà ricaricarlo ripristinarlo e lo farà andando a pescare dal grasso bianco dal grasso viscerale quindi andremo a rendere più efficiente il sistema di utilizzazione dei nostri grassi perché andremo a utilizzare certamente più grasso bianco per alimentare i nostri allenamenti e quindi andremo a toccare maggiori quote di grasso viscerale che ovviamente è quello più problematico per la nostra salute questo bastano due o tre minuti con questo panetto di ghiaccio poi si esegue il circuito a tanta intensità si fa la doccia si fa colazione si inizia la giornata in maniera pimpante e dinamica io abbino sono solito abbinare a questa tecnica del panetto di ghiaccio anche un esercizio respiratorio di biofeedback quindi ai miei clienti consiglio di utilizzare mentre sono fermi seduti con il panetto di ghiaccio sulle clavicole gli faccio fare un esercizio respiratorio nel mio podcast Body Mind Train in Italia trovate delle puntate dove io ho realizzato degli esercizi che uniscono i benefici del biofeedback respiratorio a quelli dei binaural beats anche in questo caso si tratta di una anteprima mondiale perché che io sappia nessuno ancora ad oggi ha abbinato queste due tecniche entrambe validate scientificamente che hanno una ripercussione sul sistema nervoso autonomo e quindi ci consentono di rendere più efficiente il nostro sistema autoregolato questo fa sì che io mentre sono in questa posizione per 2-3 minuti con il ghiaccio mi vado a fare 5 minuti di esercizio respiratorio se di mattina ovviamente lo faccio attivante e anche questo ha un impatto molto molto benefico sulla mia salute come vedete le tecniche per rendere più efficiente il nostro corpo sono diverse sono molte l'importante è conoscere la fisiologia leggere gli studi scientifici c'è una bibliografia ormai abbastanza corposa sulla brownizzazione sul browning del del tessuto adiposo bianco e quindi chiaramente vi posso dare questo consiglio tranquillo che dal punto di vista scientifico abbiamo le coperture necessarie detto questo fatto utilizzare i miei clienti qui di studio i risultati ne abbiamo ottenuti ne abbiamo ottenuti anche addirittura con l'attività estiva addirittura al mare per riuscire a migliorare stati di dimagrimento ci siamo portati a casa a quote di dimagrimento che abbiamo misurato con la bioimpedenziometria quindi non sono diciamo osservazioni astratte non sono rimedi magici io lo ripeto in continuazione qualunque tipo di suggerimento io vado a dare tramite i miei media quindi sia i video sia i podcast partono da una base scientifica non mi invento nulla non sono né un guru né un genio che inventa delle cose certo dal punto di vista tecnico invento delle cose perché spesso mi capita che non ci sono quelle ormai popolari a disposizione perché mi servono per un tipo particolare di lavoro non ci sono me le invento ma me le invento a partire dalla fisiologia avendo chiaro che non sto danneggiando nessuno che ci sono dei riferimenti che mi autorizzano a fare quel lavoro lì e invento aggiorno aggiungo delle cose ma sempre a partire dal lavoro che hanno fatto ricercatori ovviamente molto più qualificati di me in questo caso quindi il beinaural biofeedback l'ho inventato io ad oggi inventato è un termine improprio ma comunque l'ho introdotto io questo hit con le cadute non lo trovate da nessun'altra parte diciamo che sono tecniche che ho introdotto ma perché mi serviva farlo e perché le trovo utili chiudo il video che sta diventando lungo ma chiaramente presentando un lavoro nuovo che non troverete altrove chiaramente mi sento in dovere di spiegarlo anche dovessero guardarmi e osservare questo video dei colleghi devo in qualche modo spiegare quello che sto facendo per non dare l'idea appunto di essere il guru di turno l'influencer che dà rimedi magici e miracolosi ai propri follower ecco io questo non lo faccio per quanto riguarda le donne in particolare ho accennato già che questo tipo di circuito può essere adattato all'allenamento al femminile specialmente in caso di problematiche di ritorno venoso e linfatico che rendono gli IT inadatti a questa tipologia di persone di donne quindi in descrizione vi elenco una tipologia specifica di IT quindi un protocollo specifico per le donne con problematiche di questo tipo e che ovviamente adatta un pochino il lavoro per cui si tratterà di fare un 30-60 al posto del 60-60 quindi la fase attiva si riduce a 30 secondi per evitare accumulo di lattato e di sottoprodotti del lavoro muscolare il recupero rimane 60 secondi e deve essere attivo proprio per aiutare lo smaltimento di residui o eventuali metaboliti ancora prodotti dall'esercizio e soprattutto nella modalità per allenamento femminile ginoide consiglio l'uso sistematico del braccio che aiuta le gambe nel lavoro questo ha anche evidenti vantaggi in chiave di coordinazione di attivazione a livello nervoso ma soprattutto va a scaricare un pochino l'intensità del carico sulle gambe e va a distribuirla anche nella parte superiore del corpo il che in soggetti che hanno problematiche di gestione dei fluidi può essere veramente utile a rendere questa tipologia di esercizio meno impattante dal punto di vista poi metabolico e di smaltimento di sottoprodotti detto questo io l'invito che vi faccio sempre è quello di supportarci come iscrivetevi al canale perché vedo che tante persone osservano i miei video magari mettono mi piace ma non si iscrivono al canale se il video vi è piaciuto se questi contenuti vi interessano se magari praticate questi esercizi iscrivetevi è gratuito non vi costa nulla però questo a noi offre la possibilità di scalare il ranking dell'algoritmo di youtube e quindi di essere visti da più persone proposti a più persone e siccome il mio compito quando cerco di realizzare un video è quello di fornire un aiuto all'allenamento serio fisiologico è fatto come si deve chiaramente potremo raggiungere più persone se avete domande dubbi critiche fateli tranquillamente qualunque critica è la benvenuta perché mi aiuta anche a crescere quindi commentate interagiamo cerchiamo di confrontarci anche se siete dei colleghi avete dei dubbi su questa tipologia di allenamento parliamone non c'è nulla di male io non mi offendo se qualcuno prova a criticarmi ovviamente basandosi però su delle evidenze scientifiche se mi arrivano critiche come succede spesso è capitato anche su youtube che arrivano critiche assolutamente immotivate insensate a me non mi pare io non credo ecco io non credo nulla io studio e applico quindi non credo non ho una credenza non ho una fede particolare in alcuni esercizi tantomeno in questo questo per me è uno strumento ne uso centinaia all'interno della mia attività quotidiana quindi figuriamoci se ho fede in questo esercizio ma possiamo crescere possiamo migliorare se ci confrontiamo fra professionisti oppure se siete dei prunitori degli atleti o delle persone che vogliono tenersi in forma fare domande significa anche chiarire dei dubbi che spesso un video non può chiarire non posso spiegare tutto non posso adattare alle vostre esigenze specifiche posso fare un lavoro generico ecco se invece ci confrontiamo possiamo scendere un po' di più nel dettaglio e andare ad approfondire quindi iscrivetevi mettete mi piace commentate fatemi sentire la vostra presenza perché davanti alla videocamera ci si sente un po' soli detto questo io vi saluto io sono Marco Caponera laureato in scienze motorie e personal trainer e ci sentiamo presto a ciao Grazie per la visione!